Tutto sommato soddisfatti e rimborsati con un punto a testa. Il Barletta colleziona così il terzo risultato utile consecutivo in questo campionato. La Sud-Est torna a muovere la classifica dopo la sconfitta di giovedì scorso nel recupero contro il Gravina. Finisce senza reti e con poche emozioni sul sintetico del San Sabino di Canosa, una partita in cui le due contendenti, ora appaiati a quota 5 punti in graduatoria, non rinunciano a vincere ma si preoccupano di curare essenzialmente la parte difensiva. Risultato finale 0-0 sostanzialmente giusto. C'è la Dogana nel tridente del Barletta insieme al giovane Gadaleta e Asguera, quest'ultimo a segno nelle precedenti tre gare di campionato. La Sud-Est si affida in avanti a Manzari. La partenza è vivace su entrambi i fronti. Difetta in precisione però il colpo di testa di Manzari in avvio di partita. La replica dei padroni di casa è molto più pericolosa. Gadaleta, servito in profondità, prova a scavalcare Turi con il lobo all'estremo ospite se la cava egregiamente. Dalla parte opposta non ha particolari problemi il portiere Biancorosso a neutralizzare il rasoterra di Turritto, il più vivace tra i baresi. Lo stesso esterno della Sud-Est non inquadra lo specchio intorno a metà frazione, poi con una conclusione insidiosa chiama la deviazione in angolo l'attento di Candia. Finale di frazione è ancora la Sud-Est a graffiare sull'asse a Manzari e Visconti ma i risultati non sono quelli auspicati. 0-0 all'intervallo. Ripresa che si apre con due chance sul calcio piazzato per i Biancorossi ma la Dogana prima e Asguera poi, entrambi con il destro, non sanno incidere sul punteggio. Intorno all'ora di gioco, lo stesso Sguera servito da Zingrillo calcia di poco alto sulla traversa. Poi più Sud-Est che Barletta in un ultimo terzo di partita, giocato complessivamente a ritmi bassi. Manzari prova a fare eruzione in aria ma Monopoli lo ferma a limite. Punizione non sfruttata a dovere dallo stesso attaccante barese. Padroni di casa a trazione anteriore con gli inserimenti di Rizzo e D'Ambrosio da parte di Pizzulli che poco dopo però viene allontanato dalla panchina per proteste. Ultimo quarto d'ora, Piperis entrato in campo da pochi minuti e impreciso in due circostanze. È debole dalla parte opposta il colpo di testa di la Dogana su Assis di Rizzo. In pieno recupero poi l'ultima chance capita a Visconti ma di Candia si distende bene sulla sua sinistra ed evita il peggio. Finisce prima del triplice fischio la partita di Rizzo che ingenuamente si becca il rosso diretto. È 0-0 dunque al San Sabino, un punto a testa per Barletta e Sud-Est non il massimo dell'aspirazione ma a conti fatti neanche un risultato da disprezzare.